Sensualità di Loredana Cannata Complimenti vivissimi Complimenti vivissimi Basta Bella, bella, mamma mia E ora l'uomo di televisione, Issa Gace Marla per te invece Anche se adoro Merletto Devo dire che il piccolo gladiatore è irresistibile Quindi E' ancora un altro Maxi Angelo E arriviamo a Mario Maffucci Chi sceglierà? Paolo Franceschini 4 a 2 Uccio De Santis 2 a 2 Mario Maffucci Federico Perrotta 3 a 2 E ora a questo punto 3 a 2 Presidente Pareggiamo o rimontiamo? Federico Perrotta Andiamo 4 a 2 per Federico Perrotta Sicuramente Massimiliano tu che scegli? Io Marco Marco Passiglia 2 a 1 La Cannata invece per? Pino Forever perché ho pianto dalle risate Veramente Pino 2 a 2 Pino Mario Maffucci invece per? Pino Pino Presidente tocca a lei Prego Pino 4 a 2 4 a 2 Pino 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 Grazie a tutti I love you, you love me Andrea Carretti, Torreanna Cannata, invece tu chi sceglie? Stavolta proprio non lo so, però... Federica Federica Uvolini, c'è la donna Il martedì e il giovedì sono i miei giorni liberi, insomma se vediamo di... Ah così proprio? Federica Irresistibile Federica Uvolini anche per Mario Presidente aspettiamo lei Federica Ancora Federica Uvolini 5 a 1, solo Rosolino Vabbè, vabbè ma ci siamo... Prima è successo e per ben due volte il pubblico ha ribaltato i risultati signori Può succedere... Villa! 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 Bravissimi! Grazie a tutti